Settimane difficili per i residenti del quartiere di Villa Fastigi a Pesaro. Dopo l'ondata di furti del marzo 2023, i ladri sono tornati a colpire nelle ultime settimane. In ordine cronologico, l'ultimo furto è avvenuto lo scorso lunedì sera in una palazzina di Via Parlotti. Qui a Villa Fastigi purtroppo sta accadendo quello che è già successo l'anno scorso, quello che è successo nell'arco di diversi anni. Quindi a mandate continue furti in appartamenti, tentati, riusciti, qualcuno un po' più fortunato, alcuni meno. Però è questo continuo insicurezza che vive la popolazione per questi furti continuati. Pochi giorni fa, il 15 gennaio, era stata la volta di Via Borsi dove in un solo pomeriggio i ladri sono entrati in tre case differenti utilizzando sempre lo stesso metodo. I furti vengono sempre nella stessa maniera, quindi c'è una persona, normalmente uno molto piccolo, descritto tutti come molto piccolo, vestito con una tuta nera, un passamontagna, che scavalca da queste carri che sono bifamiliari, quindi appoggiandosi sul passamano, salta in pochi secondi sul primo piano, sul secondo piano e sale e scende con una rapidità spaventosa. Quindi forzando magari una porta, forzando una finestra e fuggendo dove riesce a fuggire, senza nessun problema, a tutte le ore, soprattutto quelle più impensabili, diciamo fra le 6 e le 8 di sera. Allora, lunedì a 10 alle 19, noi eravamo qui in officina che lavoravamo, ho sentito il mio figlio, abbiamo avuto un furto, vieni su, vieni su. Sono andato di sopra nel mio appartamento, abbiamo visto delle impronte sul davanzale della finestra, un tipo ha bloccato la seranda della cucina, è salito sul muretto dell'avanzale e ha forzato la porta alla finestra in alluminio. Mio figlio era dentro, ha sentito questo gran rumore, diceva, madosca, che evento c'è fuori, no? Faccio i giochini col telefonino. Ha sentito questo rumore, ha acceso la luce della cucina, questo tipo ha fatto tipo flash, lui ha vestito di nero, era col cappuccio, è salito sul tetto del nostro capannone, è andato dalla parte di là, è sceso sul terrazzo, sto tipo, poi sopra un altro gazebo è uscito per terra. Sono come i gatti, vanno, fanno delle cose incredibili. È la terza volta che vengono, l'altra volta ero io sul divano alle 9 di sera, domenica alle 9 di sera, di 7-8 mesi fa, ero lì a sedere, mezzo addormentato sul divano, ho sentito alla porta qualcosa, la luce è spente, hanno suonato il campanello per vedere se c'è qualcuno, oppure è due o tre giorni che suonano al telefono, se tu non vai e rispondi, dici, ostia, non c'è nessuno, e fanno il furto. Questo secondo me è la terza volta che viene e sa sempre la stessa persona. Finestre forzate o frantumate per una serie di furti che preoccupa i residenti della zona. Lo scorso marzo il questore di Pesaro Urbino, Raffaele Clemente, era andato in visita a Villa Fastigi per assicurare i commercianti e i cittadini che avevano subito furti. C'è stato un acquisto del questore, c'era stato promesso di fare un'assemblea pubblica nella quale veniva anche a noi cittadini spiegato come magari potevamo aiutare le forze dell'ordine vedendo dei movimenti o delle persone strane che magari potevano aiutare il corso, però questa assemblea pubblica non è stata fatta perché poi dopo i furti da marzo dell'anno scorso non ci sono più stati ed era stato promesso anche una serie di telecamere in collaborazione magari anche con i privati perché il Comune ha detto che non aveva a disposizione i fondi è cosa per me ritenuta assurda perché metta delle telecamere in un quartiere così che è stato negli anni saccheggiato da diversi furti penso che sia il minimo indispensabile.